Ciao ragazzi, ciao Celso! Oggi userò un attrezzo classico del prestigiatore, però lo metti in testa tu questo. Ceramica cos'è? E ho anche una piccola corda, rimancabile, sto un po' alto perchè... Andiamo a mischiare? No, mi schio, stavolta. Allora vado molto velocemente, faccio così in modo che si veda. Prendi una carta, guarda che vuoi, guarda, ricorda, aspetta, parla a vedere in camera. Ci sei? Mi giro? Rimettila! Te la ricordi? Sì! Ora provo un miracolo eh! Spero di riuscire a farlo senza alzarmi in piedi, ma ho i miei dubbi eh! Spero! Perché non si vede niente, però proviamo! Ti ricordi la carta? Sì, mi ricordo! Ti ri 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 ri, ti vai, li dai li, bravo, fai così, vai su, beh, perfetto. Ok, non è possibile. Carta era, 3 di 3 di picche! Guarda questo è un souvenir per te, aspetta. Voilà! Souvenir! Grazie! Grazie!